Esercizio fisico adatto in condizioni di ipertiroidismo. Che cos'è l'ipertiroidismo? È una disfunzione tiroidea dove abbiamo dei valori di produzione di ormoni T3 e T4 particolarmente elevati. Questo induce una sintomatologia particolarmente impattante dal punto di vista negativo sulla nostra salute, sui nostri sintomi e sulla qualità di vita. Ansia, tachicardia, improvvisa sudorazione e quindi uno stato di disequilibrio del sistema eccitatorio e inibitorio. Uno degli errori più grandi quando si pensa al tipo di esercizio è andare a fare troppo, quindi dobbiamo ripartire la piramide dell'esercizio con le attività più leggere e morbide come lo yoga, la cura della respirazione sono le più importanti e ridurre al minimo le attività intense sia in palestra e sia fuori dalla palestra nella corsa.